La vita è dura Non ti fermare davanti a niente Non ascoltare nemmeno la gente Non ti distrarre perché la vita è tua E quando arriverà la domenica E sarà sempre colpa tua Avrai almeno la soddisfazione Non dire che sei stato l'eccezione Prendi la strada che porta lontano Scegli la via che ti prende la mano Non lamentarti perché la vita è dura Non ti lasciare convincere Che nessun altro può scegliere Quello che è meglio per te La vita è tua E quando arriverà la domenica E sarà sempre colpa tua Avrai almeno la soddisfazione Di dire che sei stato il peggiore Buongiorno a tutti Sono Ramona E siamo in presenza del dottor Gianfranco Laluberti Che è il sindaco di questo splendido comune Che è Montecorvino Pugliano Allora signor sindaco Le volevo chiedere Come lei intende Come vede questo nuovo evento Che è le 5 notti dei briganti All'interno di questo comune Lo vede come una rivalutazione Un rilancio del territorio? Una bella novità Nel senso che è la prima volta Che questo evento si fa Vuole cogliere le tradizioni più belle Più competitive Diciamo di questo territorio Per un rilancio che guardi al turismo E alla storia del territorio E al momento per il futuro Per noi amministrazione è una cosa importante Perché la nostra amministrazione Che noi siamo al primo anno di lavoro Vuole valorizzare ciò che c'è di più bene E questo Questi 5 notti dei briganti Rappresentano un momento qualitativo Di questo nostro percorso Una cosa cioè che mette insieme Tradizione proposta per il futuro E innovazione Che è una cosa anche molto Diciamo attrattiva Anche perché grazie a questo vostro nuovo insediamento Ci saranno delle novità In questo comune Perché dobbiamo appunto rivalutarlo Rilanciarlo Abbiamo tante presenti Tante bellezze Non solo quello che è il chiostro Ah ma certo Noi Voi pensate Noi abbiamo deciso di aderire Al parco dei Vicentini Nella parte del comune Che è più qualitativa Bosco di San Benedetto Le zone collinari Anche le zone che stiamo bonificando Che nel passato sono stati oggetti Di deturpazioni Che attualmente invece Ci vedono investire Oltre 10 milioni di euro In questi giorni Per la bonifica E il rilancio In questo territorio Quindi come si vede Una nuova fase storica E poiché la nuova fase storica È fatta Non solo di soldi da investire Ma anche di storia Da rivalutare Questo passaggio Delle 5 notti Del brigante Che rappresenta un po' Un percorso ironico Ma molto molto gradevole Che riprende la storia Anche nei suoi lati Un po' più discussi Ma per dire A chi è fuori Da questo territorio Venite a trovarci Venite che siamo In grado Di presentarvi Una bella storia Per il futuro E per i nostri giorni Io ho avuto già Molte segnalazioni Di interesse Io ho fatto Un'esperienza Amministrativa Di loro Da lì mi hanno Scritto In molti E-mail Whatsapp E compaglia Bella Vogliono indicazioni Su come venire Alle 5 notti Di briganti Bene Ne vale la pena Come si vede E il risultato Dal punto di vista Mediatico È molto forte Un'esperienza 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 Buongiorno 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 Siamo in presenza Del presidente Della molti servizi Di Montecorvino Cugliano Emanuele Godetta Ci dica Lei è il media partner Di questo evento Di 5 notti Di briganti Come è subentrato All'interno Dell'organizzazione Attraverso Il suo supporto Logistico Tecnico Milica Beh È semplice Questa rassegna Gastronomica È stata pensata E concepita Con tutto L'interesse E la volontà Dell'ente comunale Per cui Da società Diciamo Funzionale Sono stato Autorizzato Ed invitato Dall'organismo Politico A sopportare Questa manifestazione Perché Ha i giusti connotati Di promozione Territoriale Di sviluppo Appunto E di conoscenza Del nostro territorio Sia all'interno Che fuori Dal territorio Stesso Si el ritmo Te lleva a mover La cabeza Ya empezamos Como ves Mi música No discrimina A nadie Así que vamos A romper Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene El mundo Nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene Mi música Los tiene Fuerte Bailando Y se baila Así Estamos rompiendo La discoteca La fiesta No para Apenas comienza C'est como si C'est como ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze We're a thousand miles Tres Tres Grazie a tutti 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 Grazie a tutti